Signore ma soprattutto signore benvenuti alla voce del piaccione il programma condotto dalla voce più sexy del mondo io sono Cesare il piaccione sono l'unico essere vivente a dover girare con un portodarmi a causa di una voce così bella pensate che settimana scorsa sono uscito sono andato in un locale appena entrato salutato come al mio solito ciao grandi sono svenute tre donne ho passato tutta la notte nella caserma dei carabinieri di Bauladu ma veniamo alle nostre telefonate pronto ciao io sono dominic porce 2 sono molto contenta di parlare con te ciao dominic a cosa devo la tua telefonata io vorrei fare il provino per entrare nel cast artistico di samarcanda e quindi mi servirebbe qualcuno che mi aiuti con l'addizione ma certo molto volentieri e dimmi un po ma tu fai lezioni private io faccio lezioni private eccome dove possiamo vederci ci possiamo vedere a tardanotte al giardino dei sapori c'è sestro puro grazie a cesare grazie ma di che ti saluto dominic porcedo e anche oggi era la telefonata della voce del piaccione vi ricordo l'appuntamento sempre puntualissimo con un'altra voce del piaccione e ricordate che se state camminando e sentite da qualche parte dire ciao grande sono io la voce del piaccione e ci vediamo ma come dove al giardino dei sapori